Allora, oggi questi tre minuti li dedichiamo qui a OVAD, precisamente nella CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Sono qui con Cinzia Cotali e Italo Daniele. Allora, noi siamo qui per parlare di questo problema, perché è veramente un problema, di questi terreni. Molta gente non sa ancora se deve pagare, se non deve pagare, come deve fare. Spieghiamo un po' ai nostri cittadini cosa è successo qui. Allora, purtroppo ci sarà da pagare e ci sarà da pagare per parecchie persone che non erano abituate a farlo, perché non avevano mai dovuto pagare né l'ICI sui terreni quando c'era l'ICI, né poi l'IMU con l'avvento dell'IMU. E purtroppo ci troveremo a pagare anche delle cifre, diciamo, non proprio ridicole. La scadenza è stata in ultimo fissata al 10 di febbraio, in ultimo con l'ultima decisione del Consiglio dei Ministri dell'altro giorno, venerdì pomeriggio. Ci tiriamo dietro la questione ormai da tempo, infatti da quando a fine novembre il Governo, in modo del tutto inaspettato, ha tirato fuori la questione IMU, terreni agricoli, proprio per rendere imponibili terreni agricoli che prima non avevano mai pagato. Italo, ma è giusto secondo te aiutare l'agricoltura così? Ma sì, noi notiamo che l'unico momento in cui si ricordano di noi è quando hanno bisogno di pescare da qualche parte. Al di là delle modalità che Cinzia ha spiegato, che creano delle ingiustizie, che creano dei casi in cui ci sono delle aziende che vanno a pagare delle cifre molto importanti, dispiace come da una parte dicono sempre che noi dovremmo essere un settore che può dare sviluppo al territorio, però poi, giusto, gli si accorgono di noi solamente quando c'è da prendere, giusto, queste cose. E poi, tra l'altro, la cosa curiosa è anche il come non ci sia un minimo di programmazione in queste cose, perché questa vicenda, come diceva Cecinzia, sta mettendo i nostri uffici e gli uffici dei comuni in grandissima difficoltà, perché vanno da un'ora all'altra con delle modifiche, non si capisce, interpretazioni, niente, sono cose che speriamo che... Grossi problemi. Come ha reagito il cittadino? Non bene, ovviamente non bene, perché sappiamo tutti che quando ci toccano nelle tasche, perché poi parliamoci chiaramente, noi siamo qui adesso in veste di coloro che calcolano, ma alcuni di noi si trovano ad essere coinvolti proprio anche come cittadini che si trovano a dover mettere mano al portafoglio e pagare cifre che non erano in programma e, tra l'altro, retroattive, perché la scadenza che ci troviamo ad affrontare adesso del 10 di febbraio è ancora relativa all'anno di imposta 2014, cosa che veramente ha dell'assurdo. È assurdo, quindi rivolgendosi ai giovani, ragazzi, mettetevi nell'agricoltura, ma speriamo che qualcosa cambi, perché qui invece con una mano, qui la mano la danno per prendere i soldi. E con voi ci vediamo ai prossimi tre minuti. Grazie.